Ciao, negli ultimi giorni mi sono trovato senza molto da fare in realtà a casa dei miei, ero andato là a recuperare la roba dell'estate dopo IFA e ne ho approfittato per ottimizzare un po' la RISE, il sistema operativo e tutto il resto a questo piccoletto qua che è un 1025C bianco, questa è la versione bianca del 1025C che ormai conoscete bene perché ve ne ho parlato in tanti video il modello rosa, il modello blu, il modello viola, no ricordate, tra l'altro domani andrò a prendere le schedine saldate da un amico che lo fa per lavoro, che è molto più bravo di me perché ho provato a saldare in estate ma le cose più piccole poi alla fine andavano in corto quindi ho preferito portare a lui tutto e ci saranno sviluppi da quel punto di vista, comunque ne ho approfittato per metterci Alpine, Linux e la WC Alpine non gira il RAM quindi nessuna stranezza e niente però ho rifinito parecchio la RISE e l'ambiente grafico i software che si possono usare e mi sta dando delle soddisfazioni incredibili questo piccolino perché la batteria dura un botto, la tastiera è comoda, lo schermo è fantastico in video non riuscirò mai a farvelo vedere ma è un opaco, brillante, molto luminoso intendo, molto nitido adesso inizio la registrazione qua, considerate che le prestazioni che vedrete qua sono ovviamente nello screen recorder molto più basse rispetto a quelle reali perché poverino poi i driver grafici sono anche pessimi su Linux con questa GPU quindi insomma se la cava un po' male però dal vivo è assolutamente carino. Eccoci qua, l'AVC, sfondo rosa, tra l'altro poi vi lascio i dots, li trovate su Patreon e vi lascio anche il link per crearvi degli wallpaper con questa, c'è un sito online per farli con queste trame, con questi pattern dei colori diversi se volete, se il rosa non vi piace comunque, sfondo così, sotto la way bar, vedete, i programmi si lanciano o con il tasto destro clic qualsiasi, a dir la verità, sullo sfondo tool, qua ci sono alcuni programmi preferiti oppure con il solito Windows barra e viene fuori TOFI che mi fa lanciare le varie cose sempre con TOFI uso anche la schermata qua di logout, reboot, sospensione, shutdown ora, io mi trovo qua davanti con l'AVC e Alpine Windows invio e apro un terminale, ne apro un altro, ne apro un altro, ne apro un altro attenzione questo non è tiling perché l'AVC non ha una sistemazione di tiling fatta così sono semplicemente dei terminali a certe dimensioni che si aprono con la modalità di posizionamento delle finestre automatiche, quindi dove c'è spazio lui ce la butta una e poi io posso chiudere tutto così, apriamone una, mettiamola al centro, lanciamo l'editor Helix che è il mio nuovo grande amico e adesso con una scorciatoia ho praticamente aperto il file, diciamo il file picker, posso prendere, che ne so, questa schermata qua, anzi no, questo che è il readme proprio di questa roba e poi qui a questo punto ho il mio editor per i testi e tutto il resto che funziona in modalità diciamo come Vim, modale e tutto il resto, comunque esco da qui, io posso anche andarci con micro e ad esempio posso andare con micro, config, prendiamo proprio il config di LabWC il config è proprio suo, eccolo qua, posso usare micro o micro comunque che ha delle, si usa in maniera molto più classica, no? E poi ho delle scorciatoie per spostare le finestre a destra, sinistra, sotto, sopra, angolo di qua, angolo di là, posso fare quello che mi pare oppure metterla proprio così massimizzata che mi, vedete, mi mette i bordi carini e sta qua sotto tutto carino con con la barra, qua sotto come vedete, se io apro, adesso facciamo così, poi facciamo così, qui mettiamo un altro file giusto per avere, magari possiamo far così e possiamo, anzi, c'è un'altra scorciatoia per lanciarlo nero questo terminale e io posso fare questa scorciatoia che ho messo dots che mi apre la cartella di dots files con l'esigit per modificare tutto il resto, io posso chiaramente la finestra metterla lì, oppure rimetterla giù, oppure rimetterla grossa, oppure metterla addirittura a schermo intero se devo fare qualcosa in più, insomma tutte scorciatoie che si fanno dal config, è tutto molto molto semplice, ho scelto questo schema di colori perché mi piace, è un po' strano, ma vi dicevo, vedete qua sotto ci sono le concine di Weibar, se oggi clicco ovviamente le seleziono, ora qui sono nella stessa cosa, ma se vado qua mi porta nell'altra schermata, questo è lo screen capture che sta registrando, io posso anche andare con il Windows Tab, in questo momento mi fa vedere un preview con questo bordino giallo, torniamo qua, e posso con il mouse, con la rotellina del mouse, vedete, chiudere, diciamo farei uno shade si chiama, della barra, del titolo delle finestre, così io devo farlo, poi queste sono finestre, come vedete, che si muovono in maniera, non sono tiling, ripeto, sono semplicemente delle finestre, che però io poi con delle scorciatoie, doppio clicco, quello che mi pare, o addirittura qua ho il mio menu, e posso togliere la decorazione per dire, oppure lasciarlo sempre sopra gli altri, vedete, io a questo punto ce l'ho fissa la finestra, oppure posso togliere la decorazione, vedete, e a quel punto la posso comunque ingrandire, io qua su questo piccolo, piccola bestiolina, ho tolto la preview, vedete, sul ridimensionamento, così sta molto meglio, intanto chiudiamo qua, chiudiamo tutto, chiudiamo qua, chiudiamo tutto, chiudiamo qua, vi faccio vedere qualche altra cosetta che ho preparato, per esempio pcman.fm, il file manager, come vi dicevo prima, se io ho la finestra qua e poi ne apro un'altra, vedete, me la posiziona dove c'è, dove c'è spazio, no, vedete, file manager che ha le mie cosettine, ora non so se dentro c'è qualcosa da farvi vedere, sì, vabbè, c'è poca roba, il tema icone è AIQ, è quello del sistema operativo, che tra l'altro qualche giorno fa è uscito in versione beta 5, il font è osnap, qua un tiling, un pixel font che qua sta benissimo, la barra qua sotto ha il calendario, questo che serve per attivare o meno le gamma step, diciamo, questo mi lancia un word grinder a schermo intero, o comunque massimizzato, che poi volendo posso mettere a schermo intero e usarlo per scrivere eccetera adesso chiudo tutto, ok, qua ho la mia wireless che io posso con un click attivare o disattivare c'è anche l'iconcina qua sopra, vedete, wifi radio on, oppure con il tasto destro mi apre un tool per andare a cercare le wireless e via dicendo, qua ho la mia batteria che in questo momento, vedete, mi sono dimenticato di attaccare, 49%, 10 watt di scarica, ma se io adesso attacco l'alimentatore che l'altra aveva dovuto farlo prima, vedete che qua cambia l'icona e c'è l'iconcina della carica, vediamo i sensori, 64 gradi, 63 gradi, sono un po' sopra perché ovviamente sto registrando, ma solitamente sta attorno ai 50 e quindi si lavora bene sui 50-51 gradi, con la ventolina che sta girando, io la sento, ma è buona, è accettabile, questi processori insomma alla fine non sono, faccio anche vedere delle statistiche perché ho TLP per gestire diciamo la, credo che fosse P, ok, sì, mettiamolo così, Atom N2008, vedete, qui posso anche mettere TLP stat generico che ci fa vedere tutte le informazioni sulla batteria, vedete la batteria ha 5200 mAh, ma io ci faccio veramente, veramente una vita con questa roba ed è molto molto carino, ora però uno qua potrebbe dire, sì vabbè ma si tratta solo di aprire terminali o che altra robetta ho, qua il softwareino per gestire i colori, l'icone, queste robettine qui, quindi tutta robetta, oppure ancora cosa posso farvi vedere, cosa altro ho di carino, la mappa caratteri che io uso spesso per andare a cercare l'icone, no, per metterle qua sotto, questi sono i font Awesome, guardate però carino che è, con questo, con questo look, con il bordo, lo sto usando da giorni veramente, ci ho passato giornate e non stanca mai, è molto molto carino da usare, anche perché lo schermo è molto buono, Wordgrinder, Gamma Step Indicator, Full Server, ma facciamo un'altra cosa, ecco vi dicevo prima, no? lanciamo Firefox, ora considerate che sta registrando che ci sono diversi software aperti, vedete qua sotto le varie concine, però alla fine Firefox per delle cose basilari, per esempio, scrivila, si fa, magari lo metta a schermo intero, ecco qua un testo, ora chiaramente non ha molto senso far questo, conviene farlo da terminale, eccetera, eccetera, però è per dirvi che se dovete far qualcosa con il browser, non è assolutamente impossibile farlo, non è impossibile farlo, vediamo anche la pagina About, che mettiamo in modalità luminosa, ma ad esempio, se io qua ho l'altro software che vi dicevo, il sito che vi dicevo, scusate, per generare gli sfondi, no? Io riesco, alla fine, a usarlo, se devo fare una cosa online, ora io sto andando qua, ma andiamo su Wikipedia per dire, Wikipedia, se devo leggere un testo, se io devo, vedete, lo zoom è al 90%, se devo leggere un testo, se devo andare a fare una roba, io riesco a farlo qua, metto schermo intero se proprio voglio, ripeto, le prestazioni poi sono anche migliori, perché adesso sta registrando, eccetera, 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 c'è la modalità lettura, c'è la modalità lettura. Ora, chiaramente questo non è un computerino che uno si deve portare dietro per lavorarci, ma è un computerino che se io mi porto dietro nel weekend, riesco a usare per gestire le cosette che devo fare, magari soprattutto se devo scrivere, se devo programmare, chiudiamo Firefox perché voglio far vedere un'altra cosa che sto provando, sai il feed, sai il pid, non conosco la pronuncia, questo è un cliente mail, adesso stacco la connessione, altrimenti si connette e cerca di fare di tutto, se io apro una cartella che ho scaricato prima, vedete, io qua ho le mie mail, ancora posso mettere a schermo intero per avere più spazio, e io qua ho le mie mail, ecco qua, questo è un messaggio che ho scaricato prima, lo posso leggere e posso anche fare, comporre una mail, test, invia, vai online certamente, mi chiederà la password, vabbè, perché adesso non l'ho memorizzata per ragioni di sicurezza, perché qua ho, chiaramente questo discorso della mail è un po' complesso, perché se io dentro ci devo mettere dei dati sensibili, dei dati importanti, lo devo poi proteggere bene, allora io qua, in questa installazione al momento non ho il disco criptato, perché a mia fase di installazione non l'ho scelto, perché pensavo così di farlo al volo, invece poi è venuto una cosa figa, lo devo rifare, e ho la password di boot su BIOS, e quindi quando si accende viene fuori la schermata, metti la password e poi si accende il computer, che è una buona protezione, però se uno lo prende, stacca il disco e lo mette all'altra parte, accede a tutto, quindi in questo momento non ho ancora, non ho ancora deciso, chiaramente se usare o meno questo client di mail, se mi serve soprattutto, però vedo che va, vedo che va, devo trovare il modo di farvi scaricare magari solo gli ultimi mesi, no, avere giusto una sincronizzazione in e-map con Gmail, nel mio caso, ma in quello che mi pare, però è molto carino, e vedete che va, vedete che va, cos'altro posso farvi vedere? qua c'è tool mal browser, la VPN, chiaramente come vi ho fatto vedere la volta scorsa con NordVPN c'è un vecchio video, andatevi a vedere come si fa, e poi, ah, niente, qua ho la mia schermatina, ve l'ho fatta vedere, mi sembra un sistema molto carino, apriamo un terminale, mettiamolo grosso, e apriamo, sì, eh, no, anzi, con micro, prendiamo i dot files, e andiamo su quelli del Asus, questo qua, IPC1025C bianco, che cosa ho fatto? Ah, beh, certo, ho fatto, devo scegliere un file, prendiamo il file di backup, che è quello che uso per, guardate quanto è carino, e si riesce a fare questo, devo scrivere, magari me lo metto di qua, poi ne apro un altro e lo metto sopra, oppure posso fare così, e poi mandare questo sopra, e posso poi girare tra, 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 tra i terminali e fare le cose, anche qua, se devo andare qui, magari possiamo andarci con Elix, e aprire Config, Script, cos'altro, farvi vedere qua, magari il Power, che poi non uso, perché questa è roba di altre cose, però vedete, io riesco a, ci riesco a scrivere, ci riesco a fare, non ho ancora provato a mettere un editor grafico, un editor di testo, magari per programmare, ma io credo che qua ci possa zilare, prima cosa benissimo, Hugo, per generare i siti statici, eccetera, eccetera, ma secondo me anche NPM, Node, JS, si potrebbe provare, e quindi niente, spero di avervi un po' incuriosito con questa roba, chiudo tutto, quit, chiudi questo, chiudi questo, vediamo la temperatura a quanto è arrivata, no, quando lo voglio aprire, apriamo qua, Sensors, mettiamola al 100, 65 gradi, vediamo un po' con Htop come siamo messi, ah, non l'ho installato, Top S, no, Top, vai, quanto stiamo usando? 61% di processore, 74% di needle, pensate un po', anzi, facciamo una cosa, vediamo quanta RAM stiamo usando, 218 MB, qua ci sono 4G installati, però soltanto 3 vengono visti, perché questo è in sistema operativo a 32 bit, ho scelto la operazione a 32 bit, perché su questo computer, che è il più rognoso che potete usare per Linux, nonostante il BIOS 64 modificato e tutto, Alpine, 64 bit gira malino, però se voi avete un netbook con processore Atom differente da questo, potete usare 64 bit se sono supportati benissimo, eccetera, eccetera, anche qua posso farvi vedere quanto spazio sto occupando, vedete, c'è una swap e sto usando un giga, meno di 2 giga per questa roba qua, e c'è anche diversi, ci sono anche diverse mail scaricate. Vabbè, vabbè, se vi interessa smanettare con queste cose, la RISE tutta pronta, tutta carina, la trovate su Patreon, come al solito, insieme a tutte le cose fatte in questi anni. Le istruzioni per installare Alpine, sia i RAM, sia i RAM ibrido, ovvero con la home comunque su partizioni fisse, eccetera, eccetera, sono soppresse a poco, da diversi mesi c'è una guida passo passo, e basta, insomma, se avete domande, fatemi sapere, non è un setup, questo con Alpine su un netbook così, adatto a chi inizia ora, perché Alpine dà dei limiti e tu devi essere un po' creativo in quel giro lì, consuma poco, è perfetta, è velocissima, permette di avere queste resuscita ai morti, come ho detto qualche tempo fa, proprio perché permette di avere questo, però diciamo che non è per chi inizia ora. Però questo setup con l'AVC, cioè questa grafica e questo tutto quanto, lo potete usare anche su qualsiasi altadristro, quindi voi potete installare una Arch tramite Endeavor, o tramite lo script di installazione integrato, o tramite Catch OS, o su Debian, potete installare una Debian e poi metterci l'AVC e poi metterci questi .files. Ci sarebbe da regolare, ci sarà da regolare qualcosina sui config di LabVC, l'autostart, le variabili d'ambiente, queste cose qua, ad esempio su Alpine qua per far montare le chiavettine USB è un delirio, su una Debian qualsiasi, su un'altra distro tutto funziona bene, però insomma lo potete fare, lo potete fare anche su altri modi. È carino, no? È carino, non vedo l'ora di metterci sotto in realtà un processore, qualcosa di un pochetto più carino e smanettarci un po', però ecco qua. Ciao!